Simone e Giovanni hanno avuto l'idea di raccogliere dei fondi per la pediatria infantile di Parma proseguendo nella tradizione di questo quartiere che spesso, soprattutto grazie al Parma Club Marco Osio e grazie anche all'Avis, è sensibile a questo tipo di tematica. Voi siete due soci del Club Marco Osio e avete pensato, visto che c'è vicino Santa Lucia di raccogliere qualcosa per i bambini. Raccontateci un po' come è andato. Ah niente, eravamo qui, abbiamo visto sia il suo figlio che gli altri bambini che giocavano e a questo punto abbiamo pensato di far gioire anche gli altri bambini che ne soffrono che purtroppo non hanno quella gioia qui e allora abbiamo pensato proprio di fare una cosa raccogliente in questi fondi e tutto ricavato, che faremo la cena adesso venerdì, tutto ricavato andrà in beneficenza alla pediatria e naturalmente ci sono già stati dei negozianti che hanno già contribuito, hanno già aderito a questa iniziativa, speriamo che ce ne siano degli altri e poi ringrazieremo tutti quanti a suo tempo, anche giustamente bisogna ringraziarli tutti, intanto comincia a ringraziarli anche adesso, tutto qui, questa è la lana, questa è qui. Ecco, e parliamo anche di questa cena, allora invitiamo un po' di persone a venire. Venire, certo, certo. È locale per quello. C'è una cena, 25-30 persone, niente di più. Certo, però saranno 25-30 persone, sei dettonati, che cosa gusteranno? Abbiamo pensato lasagne, un po' di affettati misti, formaggio e poi della compagnia, tanta compagnia e basta. Ma più che altro è per stare insieme per questa iniziativa, insomma, per sensibilizzare anche tutte le altre persone che magari si sono state un po' indietro, anche se sono sensibili, però magari hanno avuto un po' di, come si dice, di perplessità, quindi nonostante tutta la crisi, vedo che la gente, insomma, queste iniziative le accoglie sempre, è sempre pronta. E il menù, quindi, l'abbiamo detto, c'è anche un prezzo fisso oppure offerta? Sì, 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 abbiamo fatto un prezzo fisso, proprio per fare, perché altrimenti, 25 euro la testa, e che andrà tutto, tutto, completamente, tutto l'incasso andrà, ragazzi, hanno offerto a tutte, sì, sì, perfetto, ecco, e per prenotarsi bisogna finire direttamente, 25 posti sono pochi, quindi diciamo che una trentina siamo lì. Sì, perfetto, ecco, il Francibar dov'è? Via 30, 53B, parlo. Perfetto, aspettate, soprattutto tifosi, ma anche... Tutti, tutti indistintamente, tifosi e noi. Tutti, noi, chi vuole partecipare... Anche con una piccola offerta va benissimo, può venire tranquillamente qua. Ci sarà anche Osio per caso? No, non lo sappiamo, no, non credo, sopra. Sì, sappiamo. Va bene.